Il tuo artista musicale preferito, in assoluto. Massimo Pericolo. Va bene. Kedama, Ugo Borghetti, Simba Larue. Me bevo e pire con Amari, come facevi, ma non mi ricordo. Se bevemo tutto il bar. Per adesso è Nirvana. Qual è il disco migliore di Nirvana? Quello del bambino. Nevermind. Grande Gianni! Gianni Moretti del Teco da Gelato. Quello era Pupo. Quello era Pupo, grande quali Gianni. Luis Salla, Vagina, la canzone mia preferita. Davvero? Bellissima. Non so se stringere la mano o picchiarla. Che faccio? Che faccio? È venerdì sera e stiamo andando nel quartiere di San Lorenzo, che è più o meno la causa del 90% delle mie ubriacature nell'ultimo anno. È molto difficile uscirne sobri. L'obiettivo di oggi è scoprire in linea generale che musica ascoltano le persone in questo contesto e mi aiuteranno in questa impresa a vela e cari, ma che sicuramente sono molto più sfigliati di me a fermare gente a caso. Se me offri dubbi, resi. Allora, ragazzi belli. Che musica va ascoltato? I generi preferiti, artisti preferiti, insomma? Io faccio un po' dietro, eh? Dietro, guai, spiega, dici. Tipo di Andrea. Radio addoppiamente. Dadgrips. Dadgrips è apprazzatissimo. Savoro. O la musica che ascolterebbe un padre malinconico di vecchi tempi. Mi piace. La sincerità. Ok, beh, io ti dico tre parole. Rock, let's happen. Io ho un sogno. Fabrizio D'Andrea e Tony F. Featuring. Mi sto ascoltando molto Blanco. Accidenti. E questo è un problema. Vabbè, questo è il canale suo. Questa si può tagliare. E uno dei miei preferiti è Rancore. I carabinieri ci hanno preso a tutti i documenti, ma noi stiamo continuando a girare e ho conosciuto una persona che mi segue. Anch'io ascolto di tutto e invece l'artista preferito è Rosa Chemical. Va bene, non sono d'accordo, ma va bene così. No, tant'ora è il stesso italiano. Eh, vabbè, ce sta. Vabbè, devo fare. Beh, ascolto un po' di tutto, però Manuciao. Manuciao per forza. Attivamente sto ascoltando un mezzo crossover tra punk, trap, non la sed. Vengo a specificarlo. Rap. Noiz. Musica particolare, elettronica, che si chiamano dei producer, che si chiama Voila. Questo mi ha fermato dicendo tu sei quello che... Daniel De Sager. Eh, con la zeta, però. No, sei tu. Vice Narcos, King di Roma, Ottavore di Roma. Io ti adoro. Il fascista, siamo un fascista, bravo. Jamie Dice. Oh no, eh no, eh no, eh no, eh no, eh no, 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 non gliela vado, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Dammi una frase. Ma che è che... Ultimamente sto riscoprendo il cantautorato, quindi sto, palazzi e caguccini. Ora come ora non lo so, perché prima erano i Gorillaz, ma... Eh, eh, diciamo, mi sto allontanando sempre di più. Genere preferito, City Pop, direi. Siamo di Molcio a Doma. Che dico. Sì, bravo. Bravo. Rap, trap, indie... Mi piacciono i The Antsport. Ah, va bene. Però... Basta, basta che non ti ascolti i reggaeton. No, reggaeton no. Eh, musicista Jasmine Min, sincera. Ok, così, bam. Aiuto, Daniele, perché ci sei pure tu, cazzo? Perché il canale è il mio. Vieni. No, raga, io... Ascoltà, un botto è bello figo. Bello figo. Bello figo, bravo. Bello figo. Ehm, bravo. Cranio e randaggio. Inizialmente credevo di non essere in grado di fermare le persone, però dopo aver bevuto cinque birre sì. I generi che più ascolto sono i G-Rock, ma in realtà adesso sto andando più sullo sperimentale, elettronico, tipo algo boss. Ehm, si chiama... Aspetta. Non lo sa, ma... Novo Amor, che fa la musica triste in culo, tipo mezza folk triste. Adesso tu ci canterai Bocca di Rosa fatta da Tony F. La chiamavano Bocca di Rosa, faceva il Bocchi. Gli Archspire mi fanno proprio la besta. Ah, l'ho messo in top. Leggermente più sotto, dai. Parkway Drive mi piacevano tantissimo. I Deftones e lo dedico a tutti. Ah, questo è meme. Ma questo sia di Night, è quella Night. Ok. Ma io attualmente mi ascolto un sacco di EDM, Up and Swin, Arca. Stretta di mano, Arca pure? Arca, voglio. Ah, stretta di mano. I like Simple Minds. Simple Minds, ok. Do you know them? Normy shit, but... Come ha detto il grande Woody Allen, quando ascolto Wagner mi viene voglia di invadere la Polonia. Io ti conosco, vedi i tuoi video, però ho un gusto terribile in musica, mi dispiace. Il mio cantante preferito è Gossmain. Allora, mi hanno chiesto il cantante preferito è Gazzelle. Ciao a tutti. Buona serata, grazie. Buona serata, vai. Qual è la tua canzone preferita? Oh, italiano! Povero Gabbiano, hai perduto la compa. A tempo, a tempo. Va bene, allora dirò ne ho melodico napoletano. Oh, un applauso a tutti! Povero Gabbiano! Trap, rap, in generale hip-hop comunque. Dai, bomba! Avengers Handfold. Bells like Teen Spirit. Eh sì, la canzone più famosa che hanno fatto, esatto. Ah beh, quella è bella! Pobbri Fibra. Ho provato a scrivere una morale per questo video, però vorrei lo faceste voi. Insomma, scrivete nei commenti un resoconto di quello che avete visto, che artisti state ascoltando voi ultimamente, quelli che vi piacciono il più e ci vediamo a una prossima cringissima e divertentissima analisi sociale. Ciao! Oh, c'è sta un amico mio, Ramon. Guarda che con te sta un fisso. E allora, vuole, disponerà una mano da tutti. Vuole cantare, vuole fare il rapper, solo che non c'è stato per farlo. Sì, imparerà, imparerà, dai, su, disponerà una domanda.